Ma perché no? Perché si tratta di una riforma che va contro la democrazia, la libertà e l'eguaglianza dei diritti sociali. Perché questa riforma, se dovesse essere approvata, darebbe al Presidente del Consiglio, chiunque esso sia, dei poteri eccezionali, ma non per fare gli interessi dei cittadini, ma per fare gli interessi propri e quelli dei propri amici. L'opposizione scompare dal quadro della politica e non può più far valere le sue idee, le sue proposte, ma anche all'interno della maggioranza. La maggioranza è formata da una piccola minoranza che è diventata maggioranza a causa di una legge illegittima, ma che non poteva fare questa riforma. Quindi la questione del risparmio è una balla colossale, perché si tratta di 60 milioni, mentre ci sono ben 23 miliardi che vengono sperperati per effetto delle società partecipate. Abbiamo letto in questi giorni degli stipendi favolosi, megagalattici, che vengono dati ai funzionari della RAI, che non fanno assolutamente niente e che hanno tolto la libertà e il pluralismo dell'informazione, perché l'informazione è concentrata nelle mani di una sola persona. Tutto questo grazie alla gestione monopolistica del potere. Io credo che una cosa di questo genere si porterebbe sicuramente verso la dittatura e verso un governo che è controllato da un governo mondiale, perché io vorrei sapere chi ha suggerito al Presidente del Consiglio ai riformatori di fare questa riforma. E' importante, noi quando abbiamo letto la riforma del 1948 abbiamo guardato tutti che l'hanno fatto ed era una cosa spiegabile, dietro questa riforma noi vediamo dei poteri diversi da quelli che appaiono, cioè dal Parlamento, dal Governo, dai cittadini. Ci sono poteri esterni e allora questa cosa ci deve preoccupare notevolmente. Guardi, qui si vuole fare una Repubblica presidenziale, si vuole fare un premierato che tolga il potere ai cittadini e al Parlamento e questo per consentire a questi poteri forti che sono il gruppo Bilderberg, tanto per essere chiari, che sono questi poteri che ormai esistono da anni e che sono coinvolti anche in attentati terroristici, perché io ho trovato un documento importante nel 2013 che mi è stato consegnato da Gerardo D'Ambrosio, che era legato alla requisitore di Alessandrini, in cui si parla del terrorismo e del gruppo Bilderberg. Questo gruppo Bilderberg è stato presente in Italia da sempre e secondo le mie indagini è ancora presente perché chi è che ha scelto questo signore per fare il Presidente del Consiglio? Visto che non c'è stata un'elezione popolare. No, ma non c'entra, non c'è stata nessuna discussione. All'improvviso ci vediamo presentare un personaggio che ha dimostrato di essere incapace e quindi noi ci preoccupiamo perché non crediamo nella Repubblica Presidenziale. Vediamo quello che accade in America. In America se vince Trump, questo vuol fare la guerra. Negli Stati Uniti il Presidente degli Stati Uniti, Bush, ci ha portato alla guerra dall'Iraq che poi ha detto che mi sono sbagliato. Mi sono sbagliato. Dopo che tu hai procurato un milione di morti e una crisi economica mondiale di questa portata vota e ne esce e dici che mi sono sbagliato. Allora, voglio dire, noi dobbiamo sapere con certezza quello che sta accadendo perché la democrazia è trasparenza e controllo. Quindi senza sapere chi sta dietro questa riforma non mi interessa la persona, io voglio sapere chi approva. Secondo me, io lo so, c'è questo governo mondiale invisibile che è presente nella nostra democrazia da decenni. È una riforma che non aiuta i cittadini perché va contro l'interesse dei lavoratori. L'abbiamo già visto con le leggi che sono state fatte, le leggi Sblocca Italia, la legge contro i lavoratori, il Jobs Act, la legge contro i professori che prendono 29.000 euro all'anno mentre il Presidente della RAI guadagna 600.000 euro all'anno. Ora, si può mettere un professore o un Presidente della RAI che non ha né arte né parte, che sta lì a fare gli comodi del governo e non a consentire la conoscenza dei fatti e delle notizie a tutti i cittadini. Noi non sappiamo niente dalla televisione. Tutti questi signori che stanno in televisione guadagnano degli stipendi che sono iperbolici rispetto a quelli che invece avrebbero il diritto e il dovere di conoscere, di avere delle retribuzioni che siano proporzionate alla quantità e alla qualità del lavoro svolto. Per cui una riforma di questo genere consentirebbe, prima di tutto, di cancellare gli organi di garanzia, la Corte Costituzionale diventa un organo delle maggioranze, di cancellare il Consiglio Superiore e quindi di controllare i magistrati, di fare il Presidente della Repubblica senza la partecipazione dell'opposizione. Basta una maggioranza semplice, cioè tutte cose che sono uno stravolgimento della Costituzione. Allora io credo che i cittadini devono capire perché è una cosa così grave quella che sta accadendo e una cosa così sconvolgente che se dovessimo commettere questi errori di avallare una riforma di questo genere che toglie i diritti ai parlamentari, ai cittadini, all'opposizione di poter far valere le loro ragioni e quindi il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto alla pace, il diritto alla giustizia. La possibilità addirittura è prevista con la riforma, la possibilità che una sola Camera dichiare la guerra ma la Camera è controllata dal Presidente del Consiglio. E se il Presidente del Consiglio è controllato da qualcuno esterno, noi avremo un'altra guerra come quella che la Costituzione non è responsabile della crisi in cui viviamo, la responsabilità è di quelli che non hanno attuato la Costituzione, perché se la attuassero la Costituzione saremmo tutti bene. La Costituzione prevede l'uguaglianza dei diritti sociali, il diritto al lavoro, la distribuzione equa delle ricche. Questo non avviene perché la ricchezza viene sempre più concentrata nelle mani di pochi ricchi mentre la grande maggioranza dei cittadini è povera. E i poveri sono sempre più poveri, ricchi sempre più ricchi. Quattro milioni di famiglie sono in uno stato di povertà.